San Gennaro non dice di no, anche quest'anno il patrono di Napoli ha fatto il miracolo e il sangue si è liquefatto subito tra gli applausi dei fedeli. Il prodigio è ritenuto di buon aspicio per la città. Il cardinale Crescenzio Seipe che ha presenziato alla cerimonia non ha mancato di scherzare sulla vittoria in Champions della squadra di calcio cittadina, parlando di un certo Gennaro in campo con gli azzurri, ma ha anche fatto riferimento alla difficile situazione della città. I fedeli comunque guardano al futuro e sperano nella mano del santo. Forza Napoli, il Napolino che lo scudete e salute. Salute per tutti quanti, salute per tutti. Buona salute e serenità. La pace, guarda, la pace per tutto il mondo, per la Siria. Pace, bene, le cose migliori per l'Italia, per il mondo. Tutte grazie dei quattro figli miei. San Gennaro mi bello, faccio grazie ogni momento. Che il degrado finalmente finisca, capito? E quindi spero che San Gennaro, a furia di chiede, glielo diranno in anno, forse si riesca. La giornata di San Gennaro è stata anche una festa per tutta la città. Diversi gli eventi organizzati dal Comune, come il concerto di Felice Romano al Mercadante, in onore del patrono di Napoli.